Allora, ansufati Oh, 4-4 Certo, il meta Da 5, no Da 5 è un grande no Che può fare? T-A-T-Basta Da 5 è un grande no Costa anche troppo, secondo me, per i miei gusti È una bella carta, sicuramente, ma Finalizzazione buona Agilità di equilibrio Da 4 può essere interessante, però Va a discrezione Io vi dico sempre, se siete fan, fatelo Ma 300k Ah, va a discrezione